Non si registra, eh? Vedo un cacchio, eh? Io vedo solo schermo scuro, eh? Io sto a seguire, ma non lo vedo! Io sto a seguire, ma non lo vedi? come ho vedo ho vedo ha Mettila da quel lato, dai. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Quanto c'ha di risorse? Quanto vuoi. 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 Quanto vuoi.